L'avvio della campagna vaccinale contro il Covid-19 era previsto per l'inizio di gennaio, ma la Puglia ha anticipato i tempi dando il via nella giornata di oggi alla fase 1. 26 i punti di vaccinazione attivati in tutta la regione, 1558 le dosi somministrate in questa prima giornata e il triplo rispetto al V-Day dello scorso 27 dicembre. È un numero importante considerando che è soltanto la partenza, però nei prossimi giorni dobbiamo accelerare questa somministrazione perché l'obiettivo è quello entro una settimana di concludere la gran parte dei vaccini che sono stati spediti in questa prima tranche che sono circa 30.000. Le prime somministrazioni sono destinate a chi sta lavorando in prima linea contro il virus e quelle persone più fragili e suscettibili di malattia grave. Stamane proprio l'assessore Lopalco si è sottoposto alla vaccinazione con l'obiettivo di indurre gli operatori sanitari che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale a farlo subito. Intanto la cabina di regia regionale ha stabilito i quattro gruppi di priorità per le somministrazioni dei prossimi giorni. Nell'ambito degli operatori sanitari la cabina di regia regionale ha anche stabilito delle priorità. Sono quattro gruppi di priorità. Ovviamente il gruppo 1, quello che sarà vaccinato proprio nei primissimi giorni, saranno operatori del 118, i colleghi che hanno lavorato nelle terapie intensive, negli ospedali covid e poi via via tutti gli altri. Grazie. Grazie a tutti.